Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto chi ci sta seguendo attraverso lo streaming sul sito www.nettunotv.tv. Parliamo subito di emergenza abitativa perché è in corso di definizioni un accordo tra l'Arcidiocesi di Bologna e Acer per la ristrutturazione di alcuni appartamenti da mettere a disposizione di chi fatica appunto a pagare l'affitto. Questa mattina c'è stata una visita, la prima visita che l'Arcivescovo ha effettuato agli uffici Acer e si è parlato proprio di questo. Andiamo a sentire l'Arcivescovo Zuppi. La casa, è ovvio che la casa è un diritto, che lo sforzo da decenni di garantire una casa per tutti quelli che ne hanno bisogno è qualcosa che la Chiesa sente profondamente sua. Credo che fu una tra le prime domande che mi fecero. La prima è che cosa fa la Chiesa delle case che ha e speriamo di continuare nella scelta indicata da Paolo Francesco di accoglienza, di rendere anche i beni della Chiesa sempre più vicini alle necessità della gente. E poi c'è l'altra cosa, vi ricordate, il problema delle occupazioni, quindi tutto il problema della casa. Credo che affrontare non più con l'emergenza, ma affrontare con lungimiranza permette di rispondere alla domanda. Nelle occupazioni sembrava come la necessità da una parte che si esprimeva anche con questo e dall'altra parte un problema di regole e di giustizia, di cui bisogna sempre tener conto. Credo che questo sia lo sforzo su cui continuare, mi sembra che c'è una grande attenzione in questo. Che ci sia una casa per ogni famiglia vuol dire anche per esempio il problema del dopo di noi. Adesso per fare un altro esempio, che è un altro dei problemi che tante volte invece significa non avere un posto oppure appunto la perdita dell'autosufficienza o quegli anziani che possono restare a casa e che se hanno un minimo di garanzia, di protezione. Sono tutti tanti sforzi su cui la Chiesa vuole continuare a impegnarsi. Mettere assieme le possibilità, credo che sia anche un metodo che vale per tutto, per tutti e anche quello per noi, per il problema del garantire il più possibile delle risposte rapide a un bisogno così fondamentale come quello della casa. L'accordo è in via di definizione, quindi non ci si è voluto sbilanciare troppo sui particolari ma andiamo a sentire quello che ha raccontato di più il presidente di Acer, Alessandro Alberani. Questa presenza non è soltanto una presenza che noi apprezziamo di saluto e di incontro per conoscerci ma anche per costruire qualcosa insieme perché è importante questo rapporto visto che la Chiesa Bolognese poi attraverso la Caritas e altre strutture entra in contatto con persone emarginate socialmente, quindi c'è bisogno di risposte e anche di sinergie per cercare di mettere a punto una strategia comune. Stiamo cercando di capire quali sinergie ci possono essere perché Acer può essere un punto di riferimento a supporto delle esigenze in caso di ristrutturazione, di assegnazione. Il comune che ha lo sportello sociale, il comune è il soggetto che riceve. Questa sinergia fra i tre soggetti può produrre dei risultati, l'ho detto ieri, anche per l'Agenzia per l'affitto perché è la fascia grigia che ci interessa. Non solo chi è che è in una casa popolare a 50 euro, chi paga l'affitto a 700, ma c'è quella fascia grigia che potrebbe permettersi 300 euro e con un'Agenzia per l'affitto. Già in altre realtà, tipo a Lucca, la Chiesa ha fatto un accordo molto bello, molto preciso su questo. Siccome la disponibilità del Vescovo su questi temi c'è sempre stata, ci metteremo a lavorare insieme per una convenzione, un accordo di programma, vedremo che cosa poter fare. Siamo alla cronaca, via Emilia Levante, c'è stata una spaccata al bar Aquila che aveva aperto solo quattro mesi fa. Qui vediamo le foto postate sul sito di Bologna Today. Serranda di velta e vetro spaccato. Ad avvertire i titolari, questa mattina prima delle 5, è stata l'azienda che consegna le paste. Siamo venuti di corso e abbiamo chiamato la polizia, dice appunto, ha dichiarato a Bologna Today Luciano Calcagno, che è uno dei due soci della caffetteria Aquila che si trova al civico 83 di via Emilia Levante. Insieme agli agenti i baristi sono entrati nel loro locale, da dove i ladri hanno portato via poche monete e dei buoni pasto per un bottino di circa 200 euro. Siamo aperti da quattro mesi, siamo una nuova gestione, ci hanno subito battezzati. Queste le parole amare, naturalmente sono stati maggiori i danni di quanto non sia il valore del bottino che è stato sottratto. E poi ancora un episodio di cronaca, una coppia litigato in strada in via Rubiani, sono volati schiaffi e pugni anche agli agenti ed è finito con un arresto il parapiglia che si è scatenato ieri sera in via Alfonso Rubiani, siamo in zona Castiglione. La polizia è intervenuta intorno alle 21 dopo le numerose chiamate dei cittadini che riferivano di una litta in strada tra un uomo ed una donna. Si tratta di un cittadino brasiliano di 28 anni con precedenti perlesioni e risse e di una cittadina polacca di 34. Quando gli agenti sono arrivati sul posto li hanno trovati entrambi con il volto tumefatto e sanguinante ma nonostante il tentativo di dividerli i due hanno continuato a colpirsi. È stato difficile riportarli alla calma e quando i poliziotti hanno tentato di trattenere l'uomo hanno rimediato diversi colpi ma infine per lui sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza nel 118. Gli agenti hanno riportato sei giorni di prognosi. Cambiamo decisamente argomento. È in corso in questi minuti a Palazzo d'Accurso la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. In occasione della giornata il ricordo delle vittime di tutte le mafie. Erano ospiti di questa giornata due giornaliste che sono impegnate da tempo sul campo contro la mafia e che hanno affrontato un tema particolare cioè il ruolo delle donne all'interno di questa struttura. Vi proponiamo la prima testimonianza. Si tratta della giornalista Graziella Proto che è direttore della rivista online Casablanca una costola della più antica siciliane. Le siciliane, il cui direttore è stato ucciso proprio in un agguato di mafia. Sentiamo. Una rivista di denuncia, una rivista intanto antimafiosa che però ha una caratteristica. Lo sguardo delle donne è spesso raccontato dalle donne. lavoravo con Pippo Fava quindi la mia rivista, il mio impegno è come dire dentro proprio il solco delle idee di Pippo Fava cerco di portare avanti quello che era il suo pensiero. Pippo Fava è stato uno scrittore siciliano però a livello nazionale che lavorava anche alla RAI ed è stato un giornalista che è stato ucciso dalla mafia il 5 gennaio dell'84. A Catania aveva, come hanno detto alcuni, scoperchiato le pentole perché prima la mafia era solo a Palermo e questa cosa, come dire, ci convertava un poco notando la mafia è lontana. La Catania era totalmente immersa nel fenomeno mafioso, era ostaggio, tutta la città era ostaggio dei quattro cavalieri del lavoro, erano quattro imprenditori grossissimi che definivano i quattro cavalieri del lavoro che andavano a braccetto con l'istituzione, che erano protette dall'istituzione e che ricattavano con migliaia di posti di lavoro. Alla fine hanno vinto, fra virgolette hanno vinto, noi abbiamo dovuto chiudere perché nessuno ci dava una pagina di pubblicità e una rivista senza una pagina di pubblicità non può assolutamente campare. Cambiamo argomento, oggi quarto venerdì di Quaresima, come di consueto vi proponiamo una riflessione del nostro Arcivescovo che formula in esclusiva per gli ascoltatori di Radio Nettuno e i telespettatori di Nettuno TV, andiamo a sentire. In questi venerdì di Quaresima abbiamo riflettuto sul digiuno, la Quaresima indica altre due opere che sono legate al cammino della Quaresima, questo cammino che è come prepararci alla primavera perché è così, prepararci alla Pasqua, cioè alla vita che cambia, alla vita che risorge, alla vita che trova se stesso. Abbiamo parlato del digiuno, la Quaresima ce ne indica altre due di opere, la preghiera e l'elemosina. Questa sera parleremo brevemente della preghiera, sappiamo pregare poco, tutti noi, qualche volta pensiamo che sia troppo difficile, oppure pensiamo che la preghiera sia soltanto quando mi viene, ma le cose non sono soltanto quando mi vengono, perché la preghiera si impara ed è possibile a tutti, particolarmente la sentiamo nei momenti di bisogno e Dio non si scandalizza che lo cerchiamo come qualche volta quando abbiamo difficoltà, che ci mettiamo a cercare gli altri soltanto quando abbiamo bisogno, ma impariamo che abbiamo sempre bisogno e che soprattutto abbiamo un padre a cui aprire il nostro cuore. La preghiera non è soltanto la preghiera di richiesta, è anche una preghiera per capire, è una preghiera di ringraziamento e qualche volta è una preghiera di gioia, altre volte la preghiera ci aiuta a rientrare anche questo, a rientrare in noi stessi, infatti il Vangelo dice chiudi la porta del tuo cuore e prega il padre tuo nel segreto, ecco questo è il senso della preghiera, ritrovarsi con un padre, poter aprire il nostro cuore a un padre, qualche volta lo faremo con più difficoltà, all'inizio soprattutto ci costerà un po' perché poi ci costa il silenzio, ci costa fermarci, ci costa ascoltarlo, ma credo che il frutto della preghiera ed è uno dei frutti della quaresima che mi auguro e che auguro a tutti voi è quello di riscoprire la gioia di farci abbracciare da un padre che ama la nostra vita e che la vuole piena e bella. Cambiamo decisamente argomento, ieri Bologna ha subito un lutto perché ci ha lasciato Cino Tortorella, lo storico mago Zurli, proprio per ricordare questa bellissima figura, abbiamo ospite in studio Maria Antonietta Ventre, sorella di Mariele, ma soprattutto presidente della fondazione Mariele Ventre, benvenuta. Grazie. Lei ha conosciuto molto bene Cino Tortorella, che ricordo hai e questa amicizia come si è tracciata? Ho conosciuto Cino Tortorella perché Mariele ha istruito i bambini dei primi 38 zecchini d'oro e quindi a parte i primi due che non si sono svolti a Bologna ma a Milano e quindi ho avuto modo tramite Mariele di conoscerlo, la conoscenza, l'amicizia è poi anche continuata dopo perché Cino è stato sempre molto vicino alla fondazione Mariele Ventre, l'ultima volta che l'ho visto era pochi giorni prima di Natale, lo abbiamo invitato alla nostra rappresentazione il canta Natale che abbiamo fatto nella chiesa di Sant'Antonio e in quell'occasione lui mi ha fatto l'ultimo regalo una sua pubblicazione, la sua autobiografia perché oltre che conduttore televisivo era anche scrittore, era anche regista e poi era anche, lui ci teneva molto, gastronomo, si interessava molto della gastronomia e aveva anche fatto variate pubblicazioni. Mi ha colpito il nome di questa pubblicazione? Il titolo è molto bello secondo me, c'è vita dopo la vita e ha voluto anche un sottotitolo, non abbiate paura. Le parole di Giovanni Paolo II? Le parole di Papa Voitiva che lui ha incontrato più volte, ne è stato fatto un brano musicale che Mariele con il suo piccolo coro ha molte volte eseguito e quindi è sintomatica questa intitolazione. A me piace molto e poi praticamente ecco naturalmente gli anni c'erano perché doveva compiere fra poco 90 anni, però proprio ecco è un po' una specie di testamento questa pubblicazione. Si racconta molto, racconta anche ovviamente del suo incontro con l'Antoniano per lo Zecchino d'Oro e con Mariele, parla di Mariele con tanto affetto. Devo dire che mi sembra che l'affetto sia cresciuto da quando Mariele se n'è andata, come se si fosse rinvigorito, è stato affettuosissimo con Mariele e quindi anche con me, anche con la fondazione, ci è stato molto vicino. Io credo che gli si debba molto. veramente lui ha scritto e ha detto ripetutamente quando è mancata Mariele ho avuto un dolore tanto grande che non mi sarei aspettato, che non pensavo di avere così grande. Beh, io da ieri non voglio, non voglio essere, diciamo, non voglio intristire e intristirmi, però da ieri sento veramente che non c'è più e che se n'è andata con lui un pezzo di storia, la storia più importante dello Zecchino, perché lo Zecchino d'Oro era stato ideato da lui. Grazie, grazie moltissimo per questo bel ricordo a Maria Antonieta Ventre, presidente della fondazione Mariele Ventre. Grazie. Andiamo invece a parlare adesso di Nomadelfia che sbarca a Bologna, la comunità fondata da Don Zeno, molto noto, al Teatro delle Celebrazioni, infatti va in scena lo spettacolo I ragazzi di Don Zeno, un musical realizzato dai ragazzi stessi di Nomadelfia. Le date sono mercoledì, giovedì e venerdì, 5, 6 e 7 aprile. Nella giornata di mercoledì 5 aprile lo spettacolo sarà realizzato anche alle 10, oltre che alle 21, che è l'orario invece delle altre giornate. Abbiamo intervistato Francesco, che è presidente di Nomadelfia, che ci ha raccontato come vive questa comunità davvero straordinaria. Nomadelfia è una comunità di famiglie, siamo una sessantina di famiglie che hanno scelto di vivere insieme, mettendo i beni in comune e raccogliendo dei figli, oltre che i figli nati dal matrimonio, anche dei figli in affido familiare. Quindi è una realtà nata qui in Emilia, nel diocese di Carpi, fondata da Don Zeno Saltini, che poi negli anni 50 si è trasferita vicino a Grosseto nella Marema Toscana. Lì è un piccolo paesino, sostanzialmente una piccola realtà sociale, con una scuola interna, di laboratori, delle attività. Quindi c'è una vita di una piccola società che vuole fondarsi sul Vangelo, partendo dal Vangelo. Tutto questo nasce da questa ispirazione di questo sacerdote, appunto Emiliano, che ha voluto cambiare civiltà cominciando da se stesso nel 1920 e nel 1931 ha preso come figlio un ragazzo uscito dal carcere, nella sua prima messa. Non si rischia a chiusura, cioè che alla fine i ragazzi conoscono solo questa realtà nel mondo esterno? No, questi, i nostri figli, anche se frequentano la scuola di Nomadelfia, perché per una scelta educativa abbiamo, ci siamo impegnati anche a fare una scuola, incontrano sia in questi spettacoli, ma anche in altri spettacoli che facciamo d'estate, le serate di Nomadelfia, incontrano tanta gente e tanta gente viene a trovarci, senza nessuna censura o preclusione verso nessuno, per cui hanno un incontro con un mondo sociale, a dire la verità, molto più ampio di qualsiasi altro coetaneo che viva in un'altra situazione in questo mondo. Andiamo a scoprire qualcosa di più di questo musical, ce ne parla l'autrice Franca De Angelis. Uno spettacolo bellissimo, naturalmente. Allora, diciamo che la particolarità di questo musical è che sono gli stessi ragazzi della comunità che mettono in scena la loro storia, la storia della loro fondazione e la storia della comunità che vivono oggi. E questo, secondo noi, dà allo spettacolo anche di particolare, perché portano un'anima vera in teatro. Lo spettacolo racconta la storia del fondatore, è interpretata anche la figura stessa del fondatore, interpretato da più ragazzi della comunità. La cosa che volevamo dire fortemente è che la sua anima, il suo messaggio vive, continua a vivere oggi a Nomadelfia attraverso i suoi figli. È uno spettacolo, naturalmente, sulla fraternità, sull'uguaglianza e lancia un messaggio di speranza. Sta girando un po' l'Italia? Sì. Sì, lo spettacolo ha debuttato nel 2012 e il frutto di un laboratorio è durato un paio d'anni con i ragazzi di Nomadelfia e allora gira compatibilmente con le possibilità della comunità, perché coinvolge un centinaio di persone. Quindi vedrete 90 persone in scena che ballano, recitano e cantano e poi i tecnici, gli accompagnatori, eccetera, che vuol dire spostare una grossa fetta della comunità tutte le volte che viene in giro. Il congresso del PD ci sono state già le prime votazioni in alcuni circoli e da questi primissimi risultati risulta che Matteo Renzi è in vantaggio. Abbiamo chiesto un commento al deputato PD di Bologna, Andrea De Maria. Quanto riguarda i risultati congressuali, credo vadano commentati alla fine, per gli iscritti quando avremo tutti i circoli e poi quando avremo soprattutto il dato delle primarie del 30 aprile, che è il dato più importante. Tanto penso che il PD sia dando ancora una volta una bella prova di democrazia, facciamo partecipare i nostri iscritti, i nostri elettori, saranno loro a decidere chi deve guidare il periodo democratico, la linea politica che deve tenere il PD. Questo credo sia un fatto che ormai solo il PD fa in Italia, di cui tutto il periodo democratico può essere molto orgoglioso. Credo che si stia vedendo che ci sono tante persone, si vede dalla partecipazione ai congressi e anche in parte dai primi risultati che non hanno più rinnovato la tessera periodo democratico. Credo che una parte di questi voterà le primarie, ma comunque penso che questo problema se lo debba porre tutto il PD democratico. Noi abbiamo perso tanti amici, tanti compagni in questi anni e dobbiamo porci il problema di come averli di nuovo fra noi. Questo riguarda per me ancora più dei dirigenti, gli attivisti, i militanti, gli iscritti, perché senza quelle forze noi non arriveremo preparati alla prova delle elezioni amministrative, ci sono in tante realtà del Paese a giugno e alle prossime elezioni politiche. Per questo io devo dire che credo si dimostri la grande attualità del ragionamento che abbiamo fatto col sindaco Merola di Bologna che ci ha portato anche a sostenere Orlando, cioè la necessità di unire di più il Partito Democratico. Il gruppo Morini Cars ha inaugurato ieri sera il nuovo showroom Nissan di Bologna in via Zanardi, dove per l'occasione è stata presentata in anteprima la nuova Nissan Micro. La sentiamo la soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle parole di Sergio Morini, che è patron del gruppo Morini. L'intervista di Mario Giuliante. Presentiamo il nuovo showroom della Nissan a Bologna, il nuovo layout della Nissan, in occasione presentiamo la nuova Micra, che è la macchina, l'icona della Nissan in Italia. La presentiamo oggi, questa sera in anteprima, perché poi il prossimo weekend ci sarà il lancio ufficiale a livello nazionale. Lei presenta il nuovo showroom, è importante la presenza di Morini sul territorio bolognese? Beh sì, direi che noi siamo da 35 anni sul territorio, crediamo di avere, oggi possiamo contare su 50.000 clienti, che le abbiamo servito, serviamo ancora tutt'oggi, con l'assistenza, con le varie officine, contiamo circa 30.000 passaggi in officina all'anno e direi che abbiamo una rete di assistenza e di vendita abbastanza capillare sul territorio. Diciamo che dopo tanti anni questo tunnel buio, diciamo che adesso qualche luce in fondo si è vista, abbiamo chiuso un anno, direi abbastanza, con dei numeri soddisfacenti. Doveroso anche il passaggio sullo sport, il Bologna risorge 4 a 1 contro il Chievo, si aspetta un bel finale di stagione della squadra di Donadoni? Eh sì, abbiamo Donadoni ospite qui da noi adesso e diciamo che Bologna sia, rappresenta un po' la città, diciamo che dovrebbe rifiorire questo Bologna, ridare fiducia e con un 4 a 1 diciamo che siamo già proiettati a una salvezza sicura, poi magari speriamo in qualche risultato in più. E Donadoni l'allenatore giusto per il Bologna? Sì, lo vedo giusto, lo vedo una persona giusta, una persona che se, come penso che la società gli dia fiducia, gli dia qualche altro elemento, Donadoni possa esprimere veramente dei bei risultati in questa città. È il momento della pubblicità, poi in studio lo sport con Giacomo Bianchi. Per i trovati telespettatori di Netuno TV, radioascoltatori di Radio Netuno, apriamo la pagina sportiva parlando del Bologna che nonostante i nazionali siano partite con le rispettive nazionali, continua ad allenarsi a Casteldebole. Anche oggi doppio allenamento, alle 10 questa mattina e alle 15 questo pomeriggio, così come è successo anche nella giornata di ieri. Giornata di ieri che è stata caratterizzata anche dall'uscita di gruppo, possiamo definirla così, di alcuni giocatori del Bologna che sono andati a Castelguelfo, presenti all'Outlet, c'erano Angelo D'Acosta, c'era Fallussar, Godfred Don Sa, tra gli altri anche Sadik e capitano Daniele Gastaldello, presenti per i negozi dell'Outlet di Castelguelfo. noi abbiamo fatto due chiacchiere con Angelo D'Acosta che per una sera si è rivelato pasticcero a fianco di Bruno Petkovic. Angelo D'Acosta, pizzaiolo e pasticcere per un giorno. Sì, ci proviamo, non è facile però l'importante è anche bello sentire tutti gli affetti dei tifosi, è una bella iniziativa, ora che c'è la sosta possiamo anche rilassarsi un po' e godere dei momenti belli così. Bravo te, bravo Bruno, avete due ruoli diversi, te fai più il pasticcero e gli fai più le pizze. No, secondo me Bruno è bravo, ci puntiamo tutti su lui, c'è tanta gente. C'è un po' responsabilità su questi posti qua. Meglio questo o meglio parare e salvare un gol al novantese? No, no, meglio salvare un gol, meglio sempre stare sul campo, però questo fa anche piacere senza dubbio, è una bellissima cosa. Giornata serata con i tifosi appunto per i giocatori del Bologna, mentre ieri sera mentre i ragazzi erano all'altri di Castelguelfo sono scesi in campo con la nazionale, i due rosso-blu impegnati con l'under 21, Federico Di Francesco e Adam Masina, per Di Francesco tutto il secondo tempo nella vittoria per 2-1 degli azzurrini contro la Polonia, invece per Adam Masina uno spezzone di partita di circa 20 minuti, Di Francesco si è anche procurato un rigore però sbagliato da Cerri, suo compagno di squadra, comunque è arrivata la vittoria per i ragazzi di Biagio. Parlando di basket, invece domani scende in campo la Fortitudo, appuntamento per l'anticipo della giornata di campionato, si gioca a Roseto, trasferta per i bianco-blu di Matteo Bonicciolli che questa mattina ha parlato in conferenza stampa. Andiamo a sentire una parte delle sue parole. Andiamo ad affrontare una squadra che ha interesse a continuare bene e che secondo me se per caso andassene a uno sarebbero anche contenti. Quindi arriviamo a questa partita sull'onda del miglior record vittoria e sconfitta di tutte le squadre di Serie A2 del nostro girone nelle ultime dieci partite. Arriviamo dall'aver battuto in trasferta la squadra che assieme a noi e Roseto divide questo record di 70% di vittorie. Veniamo da un buon periodo di lavoro a fronte dell'assenza quasi sicura di Candi che probabilmente verrà in panchina ma non giocherà o giocherà soltanto se ne avessimo estremo bisogno ma Marchetti in questo momento lo sta sostituendo più che adeguatamente. Ci basta una partita delle prossime cinque per eguagliare il record del girone di ritorno, due partite delle prossime cinque per eguagliare il record, tre partite delle prossime cinque per eguagliare il record di 10, 20 e 5 perse fatte nel girone di ritorno l'anno scorso e che al contrario dell'anno scorso siamo sostanzialmente già qualificati nei periodi. Quindi complessivamente credo che la situazione non sia così negativa e con questa consapevolezza e con questa fiducia andiamo a misurarci contro una squadra di buon livello. Credo che le partite da vincere per forza comincino da gara 1 ai play-off e ribadisco che nella consapevolezza che per la società, per il club, arrivare nelle prime quattro sia una priorità e noi cercheremo in tutte le maniere di aderire alle priorità di un club che ci tratta come pochi altri club in Italia, la mia priorità tecnica non è arrivare nelle prime quattro. Se ci arrivo bene, se non ci arrivo uguale. Domani saremo in diretta circa un'ora prima della Palla 2 per raccontarvi tutte le emozioni di quello che sarà Roseto Fortitudo e poi ovviamente per la radiocronaca su Radio Nettuno. Facciamo un passo avanti, ci sarà l'Old Star Game il 6 di aprile alle ore 20.30 al Palla Dozza, il derby tra le vecchie glorie di Virtus e Fortitudo. Oggi ha parlato Paolo Moretti, doppio ex sia da una parte che dall'altra. Ha detto vestirò la maglia della Virtus perché il mio passaggio in Virtus ha lasciato un segno importante. Per quanto riguarda invece la fortitudo, invece la mia è stata poco più di una toccata e fuga, nonostante appunto la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa italiana. È meglio prendere una posizione che fare scontenti tutte e due le parti. Mi sembra una cosa giusta, serena e tranquilla. Ha parlato anche del tiro da 4 che lui vide da avversario in quanto giocatore della fortitudo quell'anno e dice fu in assoluto il momento più triste della mia carriera sportiva e da quella di atleta e poi aggiunge anche per fare un appello alla gente per partecipare appunto il 6 aprile all'Old Star Game. Moretti dice venite tutti, venite con lo spirito di partecipare a una grande festa per il motivo più nobile che ci possa essere. Vi ricordo infatti che sarà a favore di Operation Smile e a favore di Beneficenza all'Old Star Game. Era l'ultima notizia della pagina sportiva. Vi ricordo quest'oggi alle ore 18 l'appuntamento con Etnosport e Francesca Bolognini e in chiusura di telegiornale potrete seguire la conferenza stampa integrale di Matteo Boniccioli di questa mattina. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.